Oggi parte 2 di Assassin's Creed 5, 6, 7, 18 e 7, 48 e godiamocela Ha capito infatti, è una vera eccitazione E' un bisuffo ed ecco lo senatore che è riuscito a beccare proprio il momento in cui ho iniziato Ma tu si un gas di bung E beh premiamo un tasso Oddio Riassunto sono un altro tizio con un nome da pirata, che bello E con il pizzetto da più grande imbecille della storia però vabbè Però ho ammazzato il fratello di George Washington No, l'ho iniziato ieri ma tanto ho tipo ammazzato un tizio e ho fatto 46 milioni di chilometri con una nave E' super tranquillo Desena davanti, si è perso niente E questo è ambientato prima del 3 Praticamente è ambientato nel periodo in cui Achille, il tizio nero del 3 Perde la moglie e il figlio E la gilda degli assassini Era ancora forte Per qualche motivo poi è morta, non lo so Ehm E' figo perché E' praticamente il periodo prima del Prima del 3 E' figo perché ci sta Adelande là, come cazzo si chiama il tizio Amico di Edward che faceva da quartier mastro alla nave Che è un, ora sono passati 30-40 anni fa l'assassino Insieme ad Edward che però è andato in Inghilterra a scopasse una Perché ha fatto un figlio del nome Ethan Il tizio poi del 3 E questo cane Ha rotto il cazzo Chevalier Che è successo alla tua nave? Mi sono infilato in un vespaio Ho affondato tre navi con tutto il loro equipaggio Ma l'haggerfalle ha quasi seguito Spero che a te sia andata meglio le chasseurs Certo Le mie fonti dicono che Samuel Smith Abbia girato in lungo e in largo Per scoprire come si usa quella strana scatola O te dico, o te dico Dov'è adesso? Ripara la sua goletta Se ti sbrighi Potrai trovarlo Là Ricordi quei progetti? Ho chiesto a un armaiolo di costruire quella meraviglia per la tua nave I cannoni di mastro Pakol Sparano più di una brigata di artiglieri E al doppio del ritmo Grazie mille Qualsiasi cosa Per i miei amici Dunque dicevo è ambientato prima del 3 Perché c'è Achille da giovane Che ancora era un assassino da paura È il periodo che gli muore la famiglia insomma O il figlio che era piccolo Tutto il resto Capitano Mi unirò a voi in questo viaggio Vogliamo andare? Signori? Ti vedo di buon umore Shane Perché non dovrei? Ho una nuova arma E presto avrò anche l'occasione di usarla E inoltre I Templari sono sempre ben difesi E sono certo che Smith non farà eccezione Pensavo se potessero Mi sono permesso di ordinare dei miglioramenti Ora la Morrigan è dotata di una riete Che può rompere il ghiaccio Ho sentito parlare di una cosa simile Ma non l'ho mai vista all'opera Ma io non pensavo molto da vercelo È vicino? Sì Naviga proprio in queste acque E potrebbe avere la scatola Beh troviamo Però comunque sia il problema Un tempismo perfetto La fortuna non smette mai di sorriderti Ci avvisti All'inseguimento Non sparare Non possiamo danneggiare la scatola O perderla in mare Questa carretta non va più veloce Almeno la mia nave è degna di solcare le onde Chevalier Il nostro bersaglio è astuto Ma fuori da su Smith è il tesoriere dei temi Che cosa ci faccia qui Resta un mistero per me Magari è venuto per incontrare qualcuno O ha trovato i tuoi pirati Sta ricarando la nave Perciò gli è successo qualcosa? Se fosse stato attaccato da un mio alleato L'ho avrei saputo Ma è tornato da un lungo viaggio Questa è la nostra occasione Smith controlla gran parte delle ricchezze dei Templari Se lo togliamo di mezzo Washington ha dato la scatola dei precursori a lui Deve avercela ancora Sceglie ragione Prima la scatola Non possiamo affondarlo Abbordiamo la nave O costringiamolo ad attraccare Dicevo comunque che ha Il protagonista ha veramente doppiato male Capitano Basta Sta attraversando il chiaccio Non sei l'unico dotato di una rietta del genere Shade Beh Speriamo che funzioni bene Ma non mi poteva mettere l'infadratura Quella che vedevo tutto Invece di non vedere un cazzo Funziona La via è libera La fortuna ti assiste di nuovo Ma non perdiamo troppo tempo a festeggiare Smith sta scappando E non mi fate sparare E' una trappola Rispeditele all'inferno Smith non deve scappare Ma la labiglia è in bocca Che è successo? Ma che cazzo come carica della minchè? Non lo usa Ma che cazzo fai? Oh mio dio Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai si bif Straße Mi ha quello che era Ma che cazzo? Un problema Mi ha il avante Da Cazzo Che Ma rivendiamola va Ma sto giro manco l'hanno doppiato Per fare cazzate Lui che con i suoi baffetti da imbecille Che indica le cose Non vedo la nave di Smith Sbarazziamoci di queste distrazioni prima Lo troveremo Oh finalmente posso sparare con quello Ecco Smith Si muove di nuovo E' sicuro speravo di assistere alla tua fine Mi dispiace ma devo deluderlo Ed è ancora a portata Ma quindi gli devo sparare o non gli devo sparare Attento testa di rapa Distruggerai la scatola Vengono verso di noi Alberature da Goletta Navi della marina inglese C'è solo quella nave Ma che diavolo sta facendo Un'altra tattica dei Templari Possono ricoprire interenzione dell'oceano Con le fiamme Attento Shane Rischiamo di finire in cenere E' solo un ultimo tentativo disperato Di farla franca Sa che ormai è nostro Eh si eh Si è come i Templari De sconfitti malissimo Da niente Sei buono Ora sappiamo dove stava andando Il bastardo ha un accampamento Seguiamolo a terra Sparare vicino a quella preziosa scatola E' buono e discussione Vedrò di occuparmene io Oh mia dea Inghiera di pelle Oh vuoi non morire Allora del cazzo Cioè io miravo lui Incredibili combattimenti Man no Non doveva Songe Non in inglese Non in italiano Che aspettate? Fatelo fuori subito! Uccidetelo! Qualcuno lo fermi! Non può essere... No! Hai almeno idea di cosa sia? Un antico manufatto. Creato da coloro che vennero prima. Sì. Non importa. Nemmeno le più illustrimenti di tutta l'Europa sono riuscite ad attivarlo. Mi manca solo il manoscritto e tutto sarà svelato. Sì, ma tipo... Cioè, mi aspettavo una cosa di ferro, no di legno. Ma vabbè. Cosa è qua la caverna? Che cazzo dovrebbe essere? Non ci so, c'è stato. Non si capisce. Oh, vabbè, sti cazzi duri. Non ci inderezza. Non ci inderezza. Ah, ok. Si pensava fossero cocomeri. Pittura rubestre. Ma vattene affo, un culo. Eh, vabbè, dai, ne rimane uno. Eh, che faccio? Lo lascio da solo. Allora, siccome... Non mi fai un cazzo di tornare alla nave. Nord America. River Valley. La sfagging gong. Nord America, bitches. Ma sai che temperatura elevata stasera che c'è sta nell'ambiente. Saliamo sulla barca. Poi che c'è sta? Stessa cosa del 4, immagino. Ok, le posso comprare. Spada dei vichinghi. Spada di Altair. La katana. È la moto più grande del mondo. E le pistole di Ken? Noi, ma sì, dai, facciamo i figli di puttana. Perché poi la spada non la uso mai, ma vabbè. Sti cazzi. Oh, sta esplodendo. Sta esplodendo. Devo un attimo... Carico a galla! Stava questa puzza di pesci, oh. Va. A chi va? C'è un bicchiere di armi. Cattate qualcosa, su! È fissato bene, amico? Chiudila bene! La città di Sleepy Hollow. È un peccato che sia in ruina. Pensavo me lo salvasse il luogo solamente avvicinandomi. E invece nooo. Ma lo dovete più comodo. Dovete dormire nuda. Così. Che divertimento muoversi con le navi. Uh, 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 uh. Non me lo aspettavo questo tradimento. Chiudete, gabbie e controvelaci! Albany. Albany. Luglio 1754. Albany. Albany. Ah, vabbè. Sto di là. Papapapapaa. Uh, 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 uh. Signore, cosa fate? Sono in visita. Signore, cosa fate qui ad Albany? Faccio l'albanese. Una ricetta di famiglia. Un'altra ricetta... Cosa t'allまった? Non solle guardie! Scusate Lord, lasciami a casa! Non solle guardie! Non solle guardie! Non solle guardie! Scusate! 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 C'è un po' che possiamo fare per stoppare? Sì! 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 dati in inglenzi. Non so cos'è successo. Però non sono morto quindi va bene. Uccidano tutti. Cioè se uccidano da soli ma a me non votano Guts. Sei qui. Il congresso è ancora riunito. Washington e le milizie hanno attaccato i francesi vicino Jumonville. Per la Francia è un atto di guerra. George Washington. Il fratello minore di Lawrence. Sì, proprio lui. Parlando di Lawrence Washington, da quando l'hai eliminato James Wardrop ha fatto carriera. Tutte le risorse templari sono a sua disposizione. Che mi dici del manoscritto? A New York mi confermano che c'è la Wardrop e ho saputo che è qui al congresso molto ben protetto. Shay, trova Wardrop e prendi il manoscritto. Qui è pieno di templari. Io e Liam non li faremo fuggire. Questo bel cane è sempre fastidiosissimo. Che simpatico cagnolino. Tu riusci nel congresso senza farti individuare. Let's go! Stop there, you! You, stop! E c'era William Johnson. E chi è? E' un pepe governante. E' stato colonnello dei guerrieri delle sei lezioni per un po'. Ora penso si occupi delle imposte di... Non so chi sia. Attacchi da tutti i soldi adesso! Infiltrati, va troppo ridere sta cosa. Ah, quello deve essere il templare William Johnson. Magari è in manoscritto. Oppure sa dove si trova. Come ho già detto, abbiamo bisogno di un'unione nazionale tramite un atto del Parlamento che possa rendere più indipendenti le colonie. I francesi sono una minaccia imminente e noi non siamo pronti ad affrontarli. In parole povere, o le colonie si uniscono o moriranno. Discorso toccante, signor Franklin. Ma credete davvero che l'Inghilterra concederà l'autonomia ai coloni? Hanno poca scelta, signor Johnson. Voi sapete bene quant'è remota questa frontiera. Sì, ma abbandoniamo la politica per oggi. Vorrei ringraziarvi per la ricerca. Ma certo, certo. Ho esaminato quella scatola per breve tempo, ma posso dirvi che è unica. dell'antico Egitto, dite? Bene, come vi ho già scritto, io sono pronto a elettrificarla. Eccellente. Ve la faremo avere quanto prima. Riguardo al manoscritto, capitano! Mi dispiace, signore, ma il signor Wardrop non vuole cederlo. Dice che il rischio è eccessivo. Il rischio? Ah! Chiedo scusa. Avrete il manoscritto e la scatola a brevissimo. Non siete degno di quell'uniforme. Correte a Fort Frederick e dite a Wardrop che sarà meglio che consegni subito il manoscritto. O avrò il suo scalpo. Non posso permettere che quell'inglese raggiunga Wardrop. Penso che ci serva un governo coloniale più forte, con o senza l'armi subito. Non posso credere che che era là le forche o un Jason. Ma l'abbia è un grosso. Ho spettato. Ok, voglio ci servo a dare un'altra. Questa è un troppo nobretto. Guarda me c'è una direzione. Non c'è un'altra, un'altra. E ora da Wardrop, e dal manoscritto. C'è di Wardrop con un assassino in volo? Ci posso provare. Dove vai? Dove vai? Saremo di qua. Non mi ha spavolto, credo dovevo entrare da qua. Saremo di qua. Saremo di qua. È perfetto. Questo lo prendo io. Cane templare. No! Non sai che cosa stai facendo, sciocco? Libero l'umanità dal vostro controllo. E sarete forse liberi quando i francesi mineranno queste litigiose colonie? Queste colonie se la passerebbero molto meglio senza i templari dietro le quinte. Noi generiamo ordine dal caos. Se tutto è permesso, nessuno è al sicuro. Anche il diavolo cita le scritture per i suoi loschi scopi. E fuggiamo dalla zona. Ma porco dio. Nooo. Ok, però è il protagonista super anonimo in culo. Oggi, sì. Nooo. Scusa, perché 1.600 metri? Ah perché tu volevi che io andassi qua E rifacciamo il giro da qui E se camminiamo nel nulla Turno di fuori trevi andiamo Ho con me il manoscritto Ottimo Hope ti sta aspettando Sleepy Hollow Che c'è a Sleepy Hollow? E c'è stato Benjamin Franklin Johnson l'ha soldato per far funzionare la scatola dei precursori E qual è il piano? Incontrare Hope Spacciarsi per un uomo di Johnson E dare la scatola e il manoscritto a Franklin Allora sono un messaggero Esatto Vediamo se questo Franklin riesce a capire Come far funzionare la scatola E resta con lui Ah e per quanto ne sappiamo Lui non sa nulla dei Templari Né tanto meno degli Assassini Ah una missione semplice Per un sempliciotto Via le vele alte Via dal vento Chiudete tutte le vele Mai nate i trevi Calate e ripetete E calate e cazzate Bimberant Ben no benè Oh mio dio sto cane Lo voglio morto Ma poi non sta zitto Non sta zitto per minuti e minuti Ma che vuole Perché rompe il cazzo Ma poi perché sti assassini Non stanno col cappuccio sempre Io questo non capisco Che mi sono perso Ma c'hanno caldo Super easy super brinzi Super frames, ring, smuts, smuts, beninzi Oh aspetta Zuzuna Super fluido proprio Yes Fiat Lux O flat lux Sei in ritardo Il cielo fa i capricci Non è l'unico motivo Vero? Salve signor Franklin Mi chiamo Shay E questa è la mia socia Hope William Johnson Ci ha detto di darvi questi Ah Grazie ma temo di dover posticipare l'esperimento Rimandare? Perché? L'esercito mi ha confiscato i parafulmini Sono essenziali per condurre l'elettricità che mi serve per la scatola Il signor Johnson non vorrebbe aspettare oltre Allora forse c'è qualcosa che puoi fare È tutto il giorno che i soldati portano via oggetti Magari possono dirti dove hanno portato i miei parafulmini Così li potrai recuperare Al vostro servizio Controlla dal mercato vicino al porto Io resto qui a preparare l'esperimento Ok Toglio gli oggettisti castrati Parla pano con i soldati E non facciamoci individuare Non facciamoci nemmeno guardare un po' Quel tizio Il tempo sta peggiorando Sai dove si trova il magazzino soldato? Sì signore Allora forse Allora forse Ma penso di essere seguito Di sicuro te lo stai immaginando Ma darò un occhiano Penso di essere seguito Ma sto tizio è... Cioè poteri mangici? Mi farete poi che si mette il cappuccio Hai visto quegli strani oggetti nel giardino di Franklin? Ma io sto bene alla larga da lì Quello fa esperimenti con i fulmini A proposito di fulmini Mi sa che arriva una tempesta Già Speriamo che non si scateni proprio ora Certo Se porti gli amici Speriamo Guardi sul tetto Peggiore aggiunta di tutti i giochi Bella scuola È l'ultima cassa? Sì signore Mettila con le altre Niente Quello non vuole Sì signore Respiro La gente non è contenta Oggi mi hanno tirato di mondi Hanno tirato di mondi Non arrivere Ma il comandante continua così Appresco non arrivo eh eh, c'è la tua città Perchè Non avevo le risorse Chissà che se ne farà il signor Franklin di questi conduttori La tempesta sta peggiorando Meglio tornare da frente C'è un po' di più C'è un po' di più non sembra che c'è un fgo sta a piove tutto si hanno rubato le palle praticamente è una mappa ma dov'è? Portogallo è Lisbona, Hope mi ci gioco la testa sparisci da qui Shea la milizia sarà qui a breve avranno molte domande e tu invece? sono una devata cameriera giusto ok bastava bastava metà attaccare la spina qua ci si può andare corri scorri corri 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 il rifugio più vicino è a Mount Vernon Hope mi starà aspettando la mucchina ma mi adoro oddio ma dai ma come lo sta vabbè il best il best sassi iscritti che puoi accarezzare le mucchine e fa un bel che gli piace vabbè fantastico ah no io volevo 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 salire non ti manda non ti e scendi madonna che risale sempre non scendi ne risani kairi e leison lisbona è grande quasi quanto londra o parigi sicuro di trovare questo posto? lo conosco molto bene è un convento piuttosto vicino al porto potrei aver fatto visita a qualche monaca vista la tua personale conoscenza del luogo il compito aspetta a te capisci cosa occorre fare? troverò il tempio dei precursori e anche il frutto dell'eden abbiamo una nave per solcare l'oceano la morrigan l'atterrò a sicura a new york grazie io e liam partiremo subito liam non è disponibile adesso nave e ciurma ti aspettano stai attento shale i frutti dell'eden sono potenti corri shay tagliate il barbiere tagliate quel pizzetto nooo non ce l'ho fatta fuck portogallo novembre 1755 quindi c'è messo pure un fottico arrivare brutto coglione mi santi che bello ed eccomi qui alla ricerca di un oggetto più vecchio di Adamo ed Eva che tempi bizzarri benedictus est domine deus universi quia de tua largitate acepimus vinum vuotivi offerimus fructum vitis et operis letteralmente la stessa chiesa ripetuta dal primo c'hanno un modello solo di chiesa in nomine patris et fili et spiritu santi amore grazie a domini nostri chiesi et caritas dei et comunicatio santi e spiriti si what ci infila il cazzo e nessuno che sta a fa con la messa si accorge che il pavimento se no no nel senso ok andiamo avanti lì allora ok là sopra ottimo mi sono cacato sotto qui c'è l'ho pure con Dio ok la canzoncina perché chi è che non canta le canzoncine così io sempre un pisello senza fare no scendi dal muro cattivo shay ma puoi per favore correreci sopra no e li faccio così ho fanculo e yes si let's go ok ok ma cazzo scendo senza morire tanto questi sempre che stanno a fare la messa come se niente fosse e non se ne accorgono bene ci siamo il sito dei precursori ma perché si è levato il cappuccio che fastidio cosa diavolo è questo il manufatto è un penis che cazzo è ma che cazzo è che cazzo è C'è un stag! Sacro l'attacità! Ma che cazzo sta succedendo? 2, 3, un stag! No more, no more, un stag! Trezza! Onde è che sta la mia figlia trezza? Grida! Grida non so! Parlo, per favore! Cosa che non... Oh tío, non lo sali, sali! Ah, caduto. Come ho pensato se mi sono corto. Eh, pensate, lo sai. ... Dicevo, oddio, ma che si è successo? No, due, due, due! Ma a Lisbona quindi c'è stato un terremoto nel 1755? No. Oh, che è un adulto, un adulto! Vabbè, che vuoi cercare il grande senatore sempre sul pezzo! L'uomo! Poi, l'uomo, non stagli! L'uomo! L'uomo! Se vedi a fare la mia figlia drezza! L'uomo! 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 Sì ma tutta l'ispona, dai. Madonna. Eh, vissi, sicuro che c'è stato. Vabbè non è la prima volta che cambiano gli eventi storici per metterci in mezzo ai templari e agli assassini. Ma che figa questa rampegata? Vabbè non è difficile che si muore, ma che figa. Vanno proprio a sapere questo ragazzo. Vabbè ma io volo. Se pensassi uno da Lisbona che gioca a sto pezzo fa un atto, è un pochino da cagli addosso. Ma dove cazzo vai? Cioè se lui se faccio i ragazzi subito, non ti appassi. Yes. Ok. Perché Dio lo ha permesso? No diciamo... Dio non c'entra niente con questo. Figa sta scena cazzo. Molto interessante. Figo un culo comunque qua. Allora qual è la prossima città che devo distruggere? In Portogallo! È successo come ad Haiti! Un grosso terremoto! Migliaia di morti per colpa del tuo manoscritto! Non può essere. Nessuno può scatenare un terremoto! Ma una persona che maneggia i manufatti dei precursori? Sì, invece. Hai visto la scatola, Hob? Il tempio era pervaso di quel potere immenso! Tu... Mi hai fatto uccidere degli innocenti! Come osi? Lo difendi. Achille mi ha mandato là come Makanda l'ha mandato il suo uomo ad Haiti! Lui lo sapeva! Ma che diavolo sta succedendo? Basta! L'operazione era delicata. Basta! Stai scuotendo la terra stessa! Chi sei tu per decidere quale città dovrà accadere? Portatelo fuori di qui. Liam si illude se pensa che lascerò stare. Non ci si può affidare di Achille. Non deve trovare altri templi dei precursori. Non mi importa se è un mentone. O se la sua famiglia è morta. Non possono esserci scuse per questa follia. La frase che cambia tono da una frase all'altra è perfetta. Perfetto. C'è solo una cosa da fare. Gli spari dalla finestra. La merda è il mentore di Connor Kenway. Si. Ha fatto l'infame. È quasi meglio il padre. Ma probabilmente... È per quel motivo. Che avrà fanculo degli assassini. Non si torna più indietro. Non si torna più indietro. Speravo tanto in te, Shay. Perché appuccio addirittura? Devo farlo. E cosa stai facendo esattamente? Derubi i tuoi fratelli? Mi tradisci? Qualcuno dovrà pur rimediare. Rimediare? Non hai idea di cosa stai facendo. Il futuro di tutto il continente, forse del mondo intero, dipende da quel manoscritto. Forse. Ma... con che diritto decidiamo il futuro? Diritto? È nostra responsabilità! Noi siamo responsabili della morte di innocenti e del crollo di città! Questa... folle brama di potere! Finisce qui! Non ti lascerò distruggere ciò che ho costruito! Interessante! Magari siete alla zoppia, Achille? Assassini! Fermatelo! Fermate Shay! Mia! 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 Un Ernacoma.. Si non! Mi schutate! Impresorare lì... lo so è... andato le... Un vatture. Noi! Avaccio! A riparo, via, presto, via! Fuori di qui! Ma che fate, vii, 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 vii! Probabilizei em bombar na base! Oh, 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 oh! Fala, fã, fã, fã! Vamos apresolar mais um pouco! La violenza è in me necessaria. Come hai potuto seguire? Stoppiti! Quali cosa fai, non lascia l'amore! Perchè non mi ascolti a seguire? Se inizia a trovare qualcosa, lo chiede. Aiuto, non sta andando intorno. Mamma mia che palle, oh! Guardate un affanculo. Non è un terrazzo, sono convinto che... è una cosa carina da fare. Basta! Ridacci il manoscritto, Shay. Di certo Achille... Non posso! Non lascerò che accada ancora. Tante vite spezzate. Una in più non conta. Shay! Ok. Puoi fare che questi ricordi si svolgano vent'anni dopo quello appena visto. Lo sei sicura? Ma certo! Significa che... Shay è sopravvissuto alla caduta. Sei la persona che credo che sia, allora deve aver... Vai avanti. Dati frammentati. Il ricordo è incompleto. Che posso fare? Dobbiamo scoprire che vuole pare Shay. Il ricordo non sarà perfetto. Ma sono quasi certa che sequenziarlo non ti ucciderà. Interessante, comunque. Quindi Ludov pur... Cioè, comunque nelle gilde degli assassini templari ci sta sempre qualcuno che comunque fa... Ah, che bezza bene. Non sappiamo dove sia Shay o cosa ci faccia lì. Quindi tieni gli occhi aperti. Voglio sapere perché è venuto in questo posto. Sentito che ha detto. Forza! Shay, ma che è successo? Ma così scopi. Oltre al fatto che sembri... Edward Kenway. Non so per quale motivo. No, Edward Ethan. Ah, il ricordo è glitchato perché la città si forma... Las Gones. Ma che figa hanno cambiato pure l'icona con lui da vecchio. Vado, ma lo stesso doppiatore. Ci sta bene mai? Vado, che verza è. Vado, che verza è. Poi c'è un po' ancora. Poi c'è un po' ancora. Poi c'è un po' ancora. Benjamin Franklin. Ecco chi cerca Shay. Franklin ha viaggiato in Inghilterra e Francia e quel tipo ha detto Notre Dame. Shay è a Parigi. Fammi vedere che sai fare. Elimina la minaccia. Proteggi Franklin. Invece che dice elimina la minaccia proteggi Franklin come se... Ma dai! Ma dai! No, no, shit! E uno. Non so come ho preso ma l'ho preso. Era meglio plà e oissà. Ma no, davvero, comunque. C'ho manco un'arma, tra l'altro. Il è là! Attrappalo! Pare Mad Mikkelsen. Ecco chi cazzo pare. Mad Mikkelsen con i capelli all'indietro. Papà, questa volta! Merda! Che succede? Non abbiamo altri dati. Non possiamo continuare con questo ricordo. Per ora. Shay non può essere morto se è ricomparso in Francia vent'anni dopo. Ci sfugge qualcosa. I ricordi di Shay sono sparpagliati nel cloud. Il virus ha danneggiato i server e non si può accedere a tutta la sua vita in una volta sola. Tu sei bloccato e io sono impegnata. Perché non vai a trovare Otzo Berg? Lo troverai in uno dei suoi uffici. Ma perché Otzo Berg mi fa ride come nome? Sembra... Una presa per il culo. Shay Cormack è un assassino. Ma non come quelli che hai usato finora per i prodotti di intrattenimento. Fate uguale, ecco come si chiamava. Credo che Shay possa essere l'assassino più importante della storia. Perché? Le tue ricerche mi serviranno a ottenere ciò che voglio da molto tempo. Ma forse la storia di Shay può tornare utile anche a te. Ma non è il padre Desmond questo? C'è un altro server a cui accedere per recuperare il prossimo frammento. Eccellente. Se vogliamo procedere avrò bisogno dello zuccone. Ora sai cosa devi fare. Ma rifletti su ciò di cui abbiamo parlato. A me questo sembra il padre di Desmond, palese. È vecchio, c'ha la barbetta. Ma in realtà era un assassino prima. Forse adesso è un templare? Sicuramente poi li ucciderai. Questo cos'è? Non me ne frega un cazzo. No, si è il padre di Desmond. Sborrato. Puoi stare zitta? Ehm... Lo twist è carino. Come dico, prima diceva sporco templare. Ma chi? Una dice sporco assassino. Vabbè, ma tu sta... Guarda il capello... Il capello dei capelli. Sì. E yes. Non mi è sembrato troppo repentino, comunque. Una reazione un po' a caso, visto che non ha mai menzionato il fatto di... La figura di Eytam Kenway per me è molto controversa. Ho un grande rispetto per lui. Dopotutto, era il gran maestro di rito coloniale incaricato di trovare un sito dei precursori. Eytam era scaltro e spietato, ma aveva una serie di debolezze emotive che alla fine lo hanno portato al crollo. Perse il padre quando era un bambino e il gran maestro inglese, Reginald Birch, lo crebbe secondo i dettami dell'Ordine Templare. Poi Eytam scoprì che suo padre, Edward, era stato un assassino. Il fatto che abbia scelto di rimanere un Templare, invece che seguire le orme del genitore, mi dice che sapeva già di aver scelto la giusta strada. Quando Eytam scoprì che era stato Birch a uccidere suo padre, lui e sua sorella lo uccisero cercando vendetta. È stato quello l'inizio della sua rovina. I Templari uccidono per necessità, non per le emozioni. Quando scoprì che suo figlio Connor era un assassino in azione nelle colonie, la stessa debolezza nelle emozioni fermò la sua lama. Peccato che Connor non mostrò la stessa pietà. Ok. Sono stufa di aspettare i tecnici di Melanie. Ho sistemato questo schifo, ora puoi andare alla sala d'attesa e tornare. Ti preparerò l'Animus mentre sei di sotto. Il luogo del prossimo server è sulla tua mappa. Muoviti. Coglione. Merda, dimenticavo che il server ha una protezione di livello 1. Ora puoi superare la sicurezza di livello 1. Spero che non ci saranno altri ritardi. Ora puoi accedere alla stanza dei server. Ripre... Stinati server, caricherò il prossimo set di ricordi sul tuo Animus. Non tornare qui prima di aver sistemato i server. Vediamo. Perfetto. Non so come l'ho risolto. Non so come l'ho risolto. È tutto pronto. Iniziamo! Via, via, via! Ma chi siete? Non toccatela! Santo cielo, sistematelo! Tu, dammi la bambina! Va tutto bene. Elina! Si calmi, signor Berg. Non faremo alcun male a sua figlia. Ma chi siete? Mi chiamo Warren Widick. Lavoro per Abstergo Industries. Lei ha lasciato il reggimento Jutti Yegar ed è diventato un mercenario per poter pagare le cure necessarie alla fibrosi di Elina. La sua scelta ha dato frutti? Perché le? Voglio farle un'offerta. Non lavoro con gente che non conosco. Non è quel tipo di offerta. Ora tirerò fuori un oggetto dalla mia tasca. Che cos'è? Questa pillola? È solo per sua figlia. Forza, piccola. Prendi la medicina. Fermo! Ecco fatto. Non va meglio ora. Questa pillola può curarla. Ma non è sul mercato. Potrebbe essere sua se accetterà di partecipare a un programma di addestramento che ho ideato. Che cosa vuole l'Abstergo da uno come me? Oh, non lavorerà per l'Abstergo. Ma se porterà risultati, l'Abstergo potrebbe lavorare per lei. Prima di accettare voglio una cosa. Sentiamo. Quello lì ha innervosito mia figlia. Capisco. Signori, liberate il signor Berg. Jenkins, dagli la pistola. Cosa? Ora. Sì, signora. Soddisfatto? È un inizio. Ok. Ah, Ozzo Berg. Ok, quindi non è il padre di Desmond. Buon lavoro, Zuccone. I dati che abbiamo non sono precisi, ma bastano per proseguire. Torna qui e datti una mossa. Sembra che ripristinare i server rimuove il virus anche da altri sistemi. Stai facendo ottimi progressi. Voglio vedere cos'altro scopriremo da Shay. Eh, ma pure io. L'autorizzazione di livello 1 ti farà accedere anche ad altre zone dell'edificio se avessi voglia di sgranchirti le gambe tra una sessione e l'altra. Quindi Ozzo Berg non è il padre di Desmond Miles. Con tutto quel modello è lo stesso. E l'unica cosa che cambia è una bruciatura sul viso che potrebbe benissimo essersi fatto tra la fine del 3 e quello che succede dopo. Quello che succede dopo che chiameremo... Non lo so. Perfetto. Boh, torniamo nell'animoons. Ah, ok. Ok, qualcuno lo salvo. Io piano il libro o lo stanno solo a spogliare o cose del genere. Forse sembrava morto. Ok. 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 L756 New York. Ehi, stai meglio, sono contento. Grazie. Signor Finnegan. Signor Finnegan, giusto? Santa Vergine Maria, ma è l'idiota del villaggio questo. Barry! Ascolta Shay, io sono Cassidy e questo è... Barry! Stai male da settimane. Mi spiace esservi di peso. Visto? È un gran bravo ragazzo. È un marinaio goffo. Sarà caduto da una nave mezzo ubriaco. Barry! È vero. Che cosa volete? Ma che succede? Non ho armi? Niente? Ok. Ma... Ma che è successo? Non lo so. Gli hanno sparato. Questi vecchi l'hanno salvato. E non tornate più! Grazie, Shay. Quando ero giovane, li avrei liquidati tutti con una mano sola. Che volevano quelli da voi? Oh, è il solito. Pretendono di essere pagati soltanto per non far del male ai cittadini. Dammi retta. Quelle bande saranno la vera rovina della città. Aspetta qui. Ho qualcosa per te. Ma poi che c'è in te? C'è un cespolo di da merda. Barry e... Cassidy. Non puoi certo andartene in giro mezzo nudo. Tieni. Metti questi. Erano di mio figlio. Direi che se stai cercando guai avrai bisogno di queste. Grazie. Comunque gli hanno sparato, Lu. Gli hanno sparato, ha rubato il libro con scritto dove stavano i manufatti dei precursori. E Achille e gli altri stessi gli hanno sparato. Ora sì che sembri un vero gentiluomo. Cassidy. Oh, si è levato quel pizzetto da rincoglionito finalmente. Avevo un libro con me. No. Solo queste strane armi. Grazie a entrambi. Ora scusatemi. Quindi comunque gli hanno colato il libro. Allora il manoscritto è in fondo all'Atlantico. Oppure te l'hanno inculato. Oh, è praticamente diventato Adam Kenway. Quello del 3. Uguale però. Vabbè, ma quel tizio è Gesù Cristo. Ok. Ah, non lo dovevo uccidere. Eh, vabbè. Non me l'hanno detto. I Finnegan comunque, senatore, adesso lo sai. Ficcare il naso negli affari degli altri. Non è per niente carino. Hai fatto la scelta sbagliata. No, no, lui. Ma perché? Ma c'aveva il tizio in faccia. Ma poi questo sta più addestrato del mio. E ne pentirai. E lo faranno anche i Finnegan. Vabbè, non... Perfetto. I miei amici vorranno vederli. Perfetto. Perché ce l'avete tanto con i Finnegan? No, io no. Mi ha mandato il capo. Sì? E dov'è che si trova? Non puoi sbagliarti. C'è sempre del fumo nero che sale dal cortile di quell'edificio. E' a posto. E comunque devo dire che sti vestiti sono più fighi dell'uniforme che c'aveva. Quindi super apprezzabile. Le stai cercando guai. Bruh. Ma che, ma guardate, sono morto? Che cazzo ha fatto? Bruh. Cioè, letteralmente a star nudito e... e sto svenuto. Ah, ma c'è la torre, vedi? E allora se camminasse dritto ci saliamo, perché non vedo un cazzo. Ah, ma non è che è quella? Stai abbandonando la zona e verrai desincronizzato. E le mie palle però si stanno desincronizzando nelle mutande. E ora prendiamo un momento per ricordare... Ehi, vattene o muori! Oh, mo Shay... Ma grata cazzo. Continua a sembrarmi Mad Mikkelsen, però... Figo. Molto più figo adesso che con quel pizzetto da... ...da persona che mi fa bannare, se lo dico. Cosa? 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 zona vietata no 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 zona non vietata let's make our plan oh my job are them for me but where the water puoi correre per favore vabbè ma non è possibile però ma come fai? niente oh guarda ma come cazzo tu fa? ma io sparo ma da te cazzo no non è possibile no deve morire c'è ma veramente è rotto il cazzo perché non muore di cosa è fatto? a zona vietata è sarsato per colletto oddio hai detto quel porcaccio che cazzo ma perché era così difficile? e non potevo rompergli la guardia e i contraattacchi non funzionavano oh e questa è l'icona di dove sono io let's gooo sarà utile per il fumo calma signor Cormac siamo amici i Finnegan temevano che avreste commesso un azzardo sono il colonnello George Monroe colonnello vi avrei aiutato ma sono arrivato tardi direi grazie per aver spazzato via questi criminali disonoravano New York e che vi importa voi giubberosse difendete i signori ma il popolo qui fa fatica persino a sopravvivere non posso certo biasimarvi alcuni tra i miei compagni sono assai poco d'aiuto ma io non sono come loro e sarebbe a dire mi importa voglio che i coloni siano felici e al sicuro belle parole vi convincerò con le mie azioni signor Cormac ma perché mi conosci? ecco riprendete quello che hanno rubato bene useremo un po' di soldi per il bene della città la banca è buona non avete motivo di fidarvi di me signor Cormac e così siete un amico dei Finnegan sì, il loro povero figlio lavorava per me e voi gli somigliate e come? aveva un cuore buono e voleva fare del bene alla gente lui e io avevamo un soldo volevamo rendere il mondo migliore sopravvivere non basta pancia piena, vestiti pesanti la vera libertà è non dover soffrire per vivere sapete, sembra quasi che abbiate a cuore la gente che dovete governare io non governo signor Cormac assisto e basta vedete questo edificio trascurato? possiamo renderlo migliore il rinnovamento urbano è una nuova scienza che si è dimostrata efficace nel continente so come trovare risorse e usarle per ristrutturare quell'edificio e ristauriamo questa cappella ottimo lavoro che bel lavoro wow ma si sotto la vostra guida a New York prospererà signor Cormac potete fare molto per la città e i suoi abitanti dopo tutto a un uomo serve uno scopo arrivederci per ora ok ok posso ucciderlo ok sblocchiamo sta parte di mappa che ormai me l'ero messa il colonnello mi sembra un uomo retto un uomo pulo una persona degna di stima e potrebbe aver ragione dopo tutto quello che è successo dopo quello che ho fatto non posso cambiare forse c'è un altro futuro per me e forse per una volta posso fare la cosa giusta sarà meglio che torni dai Finnegan mi informerò che sto bene oppure non ci torni e ti scopri non so qualcuno ma sto cane io non lo capisco cioè non esisteva prima dell'altro ieri mi fa dire che la piotta me la so dovuta tirare fuori io dai taschi però vabbè capolong quando sta lontano il prossimo ah ma qui è bella grossa la mappa però però molto carino il fatto che le cose quindi andrà avanti così quindi era tipo una specie di prologo fino adesso quindi il prologo era che pisci gli assassini e pisci le navi ti prego smettila di navigare ti supplico di non ti supplico di non ehm no non capisco perchè sono metà doppiato e metà no cioè non ne sono molto infastidito capisco che gli costate meno veramente e poi pensa che è più una questione che c'è ma tre doppiatori in italiano e basta più probabile quello sì il colonnello monroe ci ha informati tu sei un pazzo ma grazie signor cormac mi spiace disturbarvi mentre vi riprendete no io ne ho abbastanza di riposare allora potreste aiutare un mio amico a tirarsi fuori dai guai ha scoperto un covo di criminali che preparano strane armi guardate proiettili che scoppiano come petardi ci lascereste soli un momento si chiama christopher gist e si è cacciato nei guai temo che lo impiccheranno come un cane non lascerò che quei criminali lo uccidano bene i cattivi sono nel vecchio fort arsenal ho affari urgenti ad albany dite al signor gist di raggiungermi la hai sentito cara impiccheranno un uomo al vecchio forte oh sarebbe un peccato perdercelo madonna oh malvagia proprio salva christopher gist ma quella fase sui muri no niente non servono a niente You there! Stop now! Halt! Halt! We need... Questo bastardo ha preso la nostra repubblica. Guarda gli dati una bella lezione. Hey! Hold a moment, Kurt! We are bound to cross another patrol. Mi superdista. Sono Shay Cormac. Molto lieto. Ah! Che cosa ci fate qui? Posso domandatelo. Maschera anti-cassi. Aha! Che scena dell'assassino di giro proprio. Ehm... Mi sapevo che se controchi le distorsi che si stanno a queste caglie tutte si meravigliate. Ma io non credo che siano assassini questi. Cioè, quel povo sembrava un povo di assassini. Ma non ha detto che erano assassini. Boh... Sono molto confuso. Ma tu prendi e te l'abbiamo la maschera. Come cazzo ti fare? Sono più confuso che altro, sinceramente. Ben fatto, Shay. Cacciati via dal loro stesso covo. Beh, cercavo un posto in cui metter su casa. Aspettate a comprare i mobili. Forse ci sono altri uomini sulla loro nave. Laggiù. Guardate, ecco il loro vascello. No, pure la nave. La Morrigan. Che cosa ci fa lì? Mi sembra meno chiaro che siamo assassini. È la mia nave, amico. Mi chiedo scusa, ma devo andare da quei delinquenti a riprendermi. Fermo. Non permetterò che andiate da solo. Aiutatemi allora. Mantenete alta la guardia, Shay. I criminali sono ovunque e molti di loro sembrano cittadini per me. E stanno creando problemi alle persone che si sono prese cura di me. Deve essere brava gente. Sì, infatti. Forse li conoscete. Barry e Cassidy Finnegan. Non li ho mai visti, ma conoscevo il figlio. Attenzione, i balordi potrebbero essere ovunque. Per attirarli potete fare rumore. Ah, ho qualcosa di meglio da usare. Bene. Sembrate perfettamente in grado di occuparvi della questione. Io intanto cercherò una nuova ciurma per il vostro vascello, in caso doveste andarvene in fretta. Ok, ora posso... Ma posso risalire un attimo al volo? E andare a sbloccare la mappina. Che mi infastidisce molto che non ce l'ho. Sicuro il figlio era un templare. Ma capace pure il figlio era un assassino morto per colpa di Shay. Quando lo scoprono lo rinnegano. Poi però... Lui dice no, mai sono cambiato. C'ho il pisello piccolo come vostro figlio. E allora lo adottano e lui cambia nome da Shay a Finnegan, come cazzo si chiamava. E da lì Adam Kenway comincia a fare seghe con i piedi e le ginocchia a tutti. Perché è una cosa che fa? E poi... Da là non lo so. Sono un po' andato... Ho un po' messo ciò che diciamo... Cioè le mie piccole idee. E vai, sei un bel frammentino di minchia. Andiamo a riprenderci la nave. Probabile che il figlio sia morto per colpa di Shay. Perché sennò non sono contenti scrittori quando... E come lo faccio? Ammazzò. Ma dove va? Ok, dovevo... Dovevo farglielo in corsa. Ora ha senso, ecco perché non riuscivo a accedere quello da prima. Ma sono un assassino. E allora sono assassini Con due danni Ah no ok no ma sono assassini Sono sulla barca e ma un po' esse Guarda come sono vestiti, è che non riesco a vedere se hanno le lame gelate, hai capito? Guarda come sono arrivati, hai capito? Guarda come sono fermi, e allora si خmai stare aね Guarda come? Guarda come? Guarda come? Ora! Non riesco a capire se c'è l'arma oppure no. Che comunque anche se sono assassini ci starebbe, c'è porco due... T'ha detto so due volte che mangiare la gente e ha ammazzato migliaia di persone e quello deve fare... Eh ma è dei plevi! E porco due nel momento in cui dici no, c'è Damus è una regolata che sta a fare una cazzata... Gli sparano pure. Il minimo penso darebbe fastidia a tutti. Vabbè starà lì in mezzo, su. Uccidi lui, non coincide tutti. Beh comunque l'hanno rincorso tutti prima. Vittorio sa che cazzo... Sì però comunque sia già ieri c'aveva i suoi dubbi Shae su Achille. Perché diceva da quando gli è morta la famiglia è strano. Sì. Sì. Sì C'è che avete cercato le lame a questo coglione No, questo non ce l'ha però Deve si sono strani Deve si sono stranamente strani No No Comunque sia Secondo me ci potrebbe anche stare Comunque hai subito un trauma così forte Che dici fanculo tutto Se beve dove meno pure Gran bella nave E a dire il vero ho già trovato la ciurma Mi rimane un solo posto libero però Ditemi Shay Avete già un primo ufficiale Beh lui Se n'è andato Mi offro io per quel posto Capitano Benvenuto a bordo Che non ho ben chiaro cosa vuole fare Shay Cioè se deve andare a recuperare il libro Come primo ufficiale Posso suggerirvi la prossima meta Il colonnello aspetta che gli faccia il rapporto Lo penso anch'io Il colonnello ci attende ad Albani Ma già devo risale la nave Splendido E non va che del pisallo Capitano Capitano Al più ti diceva direttamente dove devi andare Capitano 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 Così non te spacchilo Spacca Non te spacchilo Spaccherelo Il colonnello ci aspetta ad Albani Chissà cosa ci chiederà di fare Ma perché cazzo non Cazzo non è del colonnello Fammi andare lì Circostanze Comunque ho ben quattro limonitori a casa Portameli tutti e quattro Eh sì grazie al capitano Splendida nave capitano Cormac Che magari così riesca a prendermene un ordine Signor Gist Avete scoperto altro sui cospiratori e sulle loro armi? Solo che la loro base operativa è un forte francese Che si trova lungo il fiume Un po' troppo vicini a noi o sbaglio? Se costruiscono un forte nel nostro territorio I francesi preparano un attacco New York è in pericolo Volete unirvi a noi signor Cormac? Sì Sono già morti fin troppi innocenti Posso suggerirvi di potenziare il vascello? La Morrigan non è male Ma con delle provvigioni la renderemmo inarrestabile E... Ho sentito che nelle vicinanze c'è un avamposto francese Mi piace l'idea Sembra troppo Mad Mikkelsen Che è una fascia strana Fai vela per l'avamposto francese E dove sta? Ah sta qua Allora tocca a salire sulla navetta Ma perché i francesi sono venuti fin qui? Vogliono solo occupare il territorio? È più un'incursione economica che geografica Alcuni criminali vengono finanziati dai nemici delle colonie Vogliono indebolire le autorità locali Ho sentito che rubano dai civili E vendono i beni di prima necessità a dieci volte tanto Sono sempre le persone più deboli a rimetterci Colonnello Voi i Ghist sembrate ispirati C'è per caso qualcosa nell'acqua? O nel whisky? Perché mai dite così signor Tormac? Ecco io penso che Shay abbia qualche dubbio Sulle intenzioni del nostro amico Capisco ma non dovrebbe Voglio soltanto che queste colonie diventino un posto sicuro e progredito Strano Credevo che i ricchi volessero solo trarne profitto Non si tratta di ricchezza signor Tormac I soldi sono solo un mezzo per raggiungere uno scopo Ancora via! Quindi osservazione uno Non si tratta di ricchezza signor Non si tratta di ricchezza signor Non si tratta di ricchezza signor Ottimo naso amico mio Che devo dire? Come si gioca? Ok Ora si che vedi la spiaggia Non si tratta di ricchezza signor Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. immaginazione a teneri imprevisti non mi ha fatto rilevo dire e guardate, 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 guardate come vg da hadzon ammazza molta roba ma non c'è ma perchè devo tornare indietro ma che palle ma cazzo ma fammi sapere che ho tutto non capisco vorrei non dover aprire ogni stronzata che vedo sulla mappa però se diventa come il 4 che a una certa devo per forza la nave potenziolata è un macello bene Shea usiamo i materiali per aumentare la potenza di fuoco della Morrigan ci serviranno cannoni più potenti e sborre più oh i miei vestitini robito assassino provvisori madonna che figa questa no il capitano no eh 15.000 certo abiti di Versailles armatura dei nativi carina armatura da templari dell'undicesimo secolo guardia templari armatura dei vichinghi figa maestro templari abiti d'ammiraglio cacciatore cacciatore di assassini cappotto da templari che garantisce libertà di movimento e fortività abbastanza sicuro mi voglio mettere questo risa da razziatore coloniare figa la voglio c'è ah si è carina questa però boh questo mi piace cacciatore di assassini let's go e compriamo uno mortaio un mortaio tuo hai il rostro ma vaffanculo nuovo oggetto acquizzato il problema è che vorrei vorrei più cannoni perché ecco quelli che vado avanti perché altrimenti prendo solo schiafoni la forza delle palle dei cannoni per forza questo non ho neanche capito come cazzo si fa però che fai? non lo potenzi? deposito per colpi potenti deposito per i mortai ma si dai arpionare? no perfetto l'obiettivo conquista è il forte è buono che magari devo a comprare altre cose dopo non hai soldi lo so senatore lo so sono un coglione ma sicuramente potrò vendere qualcosa e farmelo uguale ma che bello sto vestito pd pd che figo capitano attimo la vostra nave è potente signor Cormac quel forte non resisterà per molto io spero che durino un po' o la giornata sarà molto noiosa mai bramare lo scontro signor Beast tanto le battaglie non ci mancheranno di certo e comunque se troviamo il comandante i francesi si arrenderanno no? esatto una strategia molto astuta ma prima di tutto dovremo abbattere le loro difese altrimenti resteranno barricati e noi non potremmo avanzare ecco il bersaglio lo scena tira laggiù come se fosse un birillo inizia attaccando le torri come dice il colonnello la capitano via dal vento chiudete tutte le vele capitano ti abbracare il fuoco sta fuori lì saremo in bersaglio quest'ordine oh dio oh dio oh dio guardate che tu non fatti sparare ma dove cazzo fuoco 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 ho sbagliato ho sbagliato? fuoco e le chiuse fuoco 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 no no punto debole non vedo un cazzo fuoco 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 ce l'ho fatta? si ora questo forte distrutto è mio e quindi aprite i trevi spiegate le vele cavaltiamo il vento dobbiamo essere cauti signore sono acque ben sorvegliate via le vele bene ora trova il comandante del forte ancora giù è quasi tentato di rimettere il mio testito normale perché era figo pure quello ma è proprio perché questo copre la bocca non so se ne cazzo fammi cambiare un attimo il vestito che non sono sicuro di quello che ho fatto guarda robalmente parlando è figo pure questo è proprio sfoghissimo questo giacchetto capito? sto andando totalmente a caso che non si vede nulla pieno di nebbia che non si vede nulla non ecco raggiungiamo il gabinetto di guerra mi guarda non ecco pigna in bocca e ammazzate ma... lame ce l'ate? non mi lama le ce late perchè anche le spati in mano? ok no ma non è possibile muori per favore e non ha fatto un suono chasse shay quanto tempo eri forse in missione speciale? si per achille molto interessante anch'io non costringermi a farlo lo chasse fare che assassinarmi crediamo fosse la tua specialità potremmo andarci nei buster mi dovrai uccidere e ci rendiamo conto che ho preso tutti i quei danni perchè è apparso nel nulla uccidere 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 oddio ma queste assassine sono mal cogito quelli si tagliavano il pollice per la lama ce late l'annulare ma non lo fanno più ma già dai tempi di Ezio perchè poi l'hanno modificata ci hanno hanno sbugnato sopra le mani il macello non costringermi a farlo lo chasseur fare che assassinarli credevo fosse la tua specialità e mandarcene e basta a one legged circus monkey ti dovrai uccidere shay he's getting away must i do everything here sei sempre stato molto bravo shay anche tu dimmi cosa facevi a terra armi speciali gas velenosi da usare sulle autorità coloniali ero qui per una consegna spero che tu possa trovare un po' di pace ma lei era super tranquillo si cioè se vengono tutte a scoppiarlo però facciamo finta che sia una cosa normale mi picca il portatore della chiave con il tardo da cuore no che ce l'avevo uccidi le chasseur senza uccidere ma a parte ma devo chiamare le chasseur ma che cazzo di non è chiamate Mario Alfredo di chasseur lo chasseur aveva ragione non non avevo altra scelta gli assassini altrimenti mi darebbero la caccia faccia da coglione comunque che c'è dobbiamo andare per il nostro prossimo passo cazzo sta cosa che non ti fa salire sulla nave mi uccide comunque tantissimo ma non mi dire era davvero incredibile l'alfredda beh in ogni caso tra le tante cose ho trovato mappe e carte per varie rotte commerciali francesi cos'hai in mente chiste direi che potremmo usarle per aiutare la marina inglese direi che non me ne fotte un cazzo usciamo da questa cagata non me ne frega meno di un cazzo della campagna navale fa un culo ai navi per favore basta navi nordamerica 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 let's go ok ok mo tocca sbloccare un po' di mappa però perchè cioè se non ti metti qua non vedo un penis potrei non avere parole ok ch touched ehh ok ok ah ok èveno non èveno se volent c'è assostante questi non ma non Mica si lavora il cazzo comunque Beh, che assassino incredibile Ma perché mi devono rompere i coglioni? Mamma mia che parli Basta, cioè, mamma mia sta rompendo i cazzi miei e mi devono rompermi i coglioni Ma è assurdo, è assurdo Fammi vivere sul tetto Ma però finisce più, cioè E' il solito uccello che gira intorno alle palle E' il solito uccello che gira intorno alle palle E' le palle dure, sporco il cazzo Cazzo di Di, di, di storia ragazzi Cioè, incredibile Non ho mai visto un penis così grande Mamma, mi sta prendendo in giro? Ma sto già due volte Ma perché? Perché non salta sui cosi? Ma non è tanto quello che io si mortacci tua Ma che cazzo c'è? Io bo... Cioè, due su due Let's go, direi Bafangulo, porca putonna Andiamo a dire Che è successo? Mi hanno tirato un coltellino Ah, oddio, probabile Ma andata in sud Ma che sono questi sussuri all'Harry Potter E' praticamente quando li senti A quanto credo Che ci siano Assassini Ascorsi da qualche parte Che ti stanno a guardare Solo che semplicemente Non me ne va a fottere meno Quindi Vediamo se si è buttato di nuovo per terra Ma non sulla paglia Oh, alleluia Oh, alleluia Non so come ringraziarti Sei un eroe Oh, grazie, prego Un pisallo veramente piccolo Ma ti sei un assassino Perché gli assassini stessi L'avranno morto Perché praticamente Achille Cioè L'assassino che ti addestra al 3 Essendo che qua è ambientato prima Quindi in prequel Te manda in una città A Lisbona ti manda A circa un artefatto Dei precursori Appena lo tocchi Si è sgredola E terremoto De Lisbona Quello famoso Che distrugge la città Nel 755 E quindi tu rosichi E dici No, io non Cioè Butta sto cazzo di libro Dove leggi che stanno E lancia verde Lui ti dice No, perché il mondo De qua e del là I templari Lui fa No, non accetto questa cosa E tradisci gli assassini Praticamente E da qui Tipo gli assassini Ti vogliono morto Ma semplicemente Perché gli hai rubato il libro Quindi tu devi andare A quanto ho capito A riprendere sto libro E bruciarlo In modo che scopo A sto personaggio Eh, è quello che sto cercando Di capire Se deve ricoprare Solo il libro Oppure se vuole Se vuole scopare Sicuramente non ho capito I templari Mi vogliono morto Non lo so Secondo me I templari Mi vogliono bene Però probabilmente Mi vogliono morti Tutti e due Semplicemente C'ho troppo swag E quindi Me ne sbatto per cazzo Questi li famo fuori però Livello 2 di difficoltà Ma secondo me Un paio di dardi E si fa easy C'è il traditore inglese Trovo il c'è il capo Rimuovi la bandiera Perfetto Ok Ok Pesaremo su Ehm Dovevo tagliare la bandiera E quindi adesso Sono Ah, guarda La cosa positiva Perché non c'ho più Perché non c'ho più il pizzetto Quindi diciamo che E' andata comunque bene Ok 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 Dove che è il combatto con le spade Però vabbè. Perfetto. Robba mia adesso. Robba mia, robba mia! Andiamo qua. Non ho ben compreso dove si restaurano le cose perché le icone non l'ho capito. Probabile però sia questo. Cosa vuoi? Sto solo... Eh, ma voglio aprire i materiali. Che fastidio! Sto vaffanculo! Cioè, già è una cosa di... praticamente di farming. Me la fai fare anche che... Devo farmarmi i materiali. Amico mio, desisti. Cosa. Cosa. Sento proprio la puzza di assesino che mi spizza il buco del culetto Tutto per sbloccare un po' di mappa che non si vede niente Letteralmente niente Ah, ma io... va bene Eh? Swig Swig Amore Ma posso passare anche sotto, qua? Sembrebbe figo Uh, che figo Call of Duty? Eh, non me l'ha rifatto, posso ancora Flop, 0 su 10, disinstall Sono i versi che mi lasciano perplesso Ma io ero per uscire Siamo pronti a fare del nostro meglio Sì Questo si può fare? Sì Perché poi è bello ristrutturare le cose Certo, lo ristrutturato è più brutto di prima, però Non c'è il pisello che fa l'umore Ma cazzo vai, sali qua Sali su, sali su, sali su Il mio pisello Sì Sì Ma qui sono più alti queste torrette, comunque Morto, direttamente è morto Tieni gli amici vicino Ah, signor Cormac, ciò che avete scoperto dall'escesseur è stato confermato I criminali locali stanno cambiando strategia Qual è il loro piano? Il loro capo ha chiesto a Benjamin Franklin nuove armi È molto ben protetto Benjamin Franklin? Ma chi? Lo scienziato? Proprio lui Ma perché se lo chiamano tutti Franklin, lui Franklin, mortacci, il soluzione È necessario per spargere gas sulla gente Gas tossiccia quanto ne so Sulla gente? Pensavo che li avrebbero usati sulle autorità Sarebbe comunque stato terribile I criminali catturati parlano di una donna minacciosa Credo che ci sia lei dietro a questo piano Cercherò di indagare Grazie Invece come l'ha guardato Mazzavo, grazie Sei se il cazzo di bocca Spero tanto non sia tu Sennò che fai da scopi Stupido coglione Cacciucci la casa di Franklin Ma vaffanculo Ma perché? Vabbè sai che c'è C'è Io li scoppio senza fanno Vabbè vado sto cilindro da capoccia Cazzo da assanzino sei Assanzino grid Ma non Stava nascondendo Perché lavoriamo? Non l'ho capito Da solo? Non da solo Ma che bello rivederti La tua amica Hope diceva che eri via Sì lo ero Sono qui per prendere i risultati dei vostri esperimenti Oh beh Che colpo di fortuna Pensa che ho appena aggiustato il prototipo Prendilo pure Stavo per partire per Filadelfia E da lì per l'Europa E da lì per l'Europa Mi hanno chiesto di insegnare a Londra Oh Saresti così gentile da riferirlo alla signorina Hope? Ma certo Oddio Hope Che ci fai con quella feccia? Vuoi scatenare la rivolta in città? Cosa sei diventata? Cosa dicevate, signor Cormac? No, no Solo Vecchi ricordi Quando le nuove reclute sono prese dai rimorsi Consiglio loro di liberarsene Con la polvere da sparo Ma reclute di cosa? Avete ragione Totpe Questo prototipo è molto potente Usatelo con cura, signor Cormac Ma non ho capito neanche cosa Dalle informazioni che abbiamo È in grado di distruggere le fortificazioni E ferire molti nemici In una volta sola Si può usare anche in un altro modo Alcune granate Contengono un potente sedativo Lanciane una contro i nemici E si addormenteranno Mettiamo alla prova la nuova arma Usatela su quella porta Forza, signor Cormac Colpite la porta È proprio un lanciagranate Ma che è in dettaglio a questi? Bel lavoro Direi che siete già pronto A ritorcere quest'arma Contro i criminali Che l'avrebbero usata Qui vicino C'è una fabbrica abbandonata Che nasconde un veleno pericoloso Per ora Provoca solo sonnolenza Ma i fuori legge Lo stanno distillando Una formula più potente Potrebbe uccidere Mezza New York Sarà il mio primo bersaglio Attenzione, signor Cormac Sappiamo che gli ingredienti Sono molto instabili Ah, tanto meglio Oddio il cattino Con la mucca era più figo Perché accarezzavi la mucchina Certo ci hanno messo 6 giochi Per fare accarezzare gli animalini Grazie di merda Ah, puri collezionabili Dietro le porte Dove esplodere Ma fate cagare Eh sì, sono assassini Ma devo nascere una branca strana D'assassini Perché non so gli stessi L'importante è appettare Il maiale Stop La pagherai cara Ma io non mi entendo Ma io lo vedo Ma io li No, no Bollocks That's a grenade Ma qua li si stanno a danza So che cagano Mi piace, yes No, no non lo so 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 vedo io stiamo in questo va bene come che trema tutto che le faccio non lo so non lo so ma ma La pagherai, cara. Come back here, right now. So long ago, so long cosa? Stupida gredina. Oh, ok. Se non me ne vado, sono spacciato. Ho detto che ci troviamo ancora. Continuiamo! Ma, ma, perché? Perché sta meccanica funziona così? Levatevi dai coglioni, via. Mamma mia. No, no, lo so che c'erano le casse. Senato, semplicemente, speravo di non doverci andare. Ah, sì. L'ottimo gameplay qui. È vero. È vero. Come va. Va a le testare. È vero. Sì. È vero. 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 Ah, che spettacolo grandioso, capitano Si vedeva il fumo persino dalla Morrigan Questo scoraggerà quei criminali New York è salva per ora Con tutto il rispetto, colonnello Non basterà qualche esplosione per risolvere un problema come questo Ha ragione, colonnello Monroe Sì, giusto? Congratulazioni Avete cacciato parecchi ratti da New York Sono Jack Wicks E lui è William Johnson Non so lui, ma io sono lieto di conoscervi Il piacere è tutto mio Qui ci si annoia terribilmente Io dico che il nostro Shea può raccontarci le sue avventure davanti a una pinta Ehi, il primo giro lo paga il colonnello Dicevate, signor Cormac? Mi sento solo un po' confuso Devo avere inalato del gas Un po' di birra vi farà bene Venite, siamo tutti amici Ottimo dottore Quindi i templari Praticamente tradisci Prendete con i templari Sicuramente o continuerà con i templari Ma cercherà di fare del bene O poi comprende che i templari fanno cacare Mi sta traccendo intanto il Samuel Jackson Sì, è vero E quindi tradirà i templari dopo Un po' di cocaina farà bene Sì Citazione Sherlock Holmes 1757 Due anni dopo Non mi ricordo che anno era prima Ma se c'hanno cagato su qua Amela Ah, i templari c'hanno il libro Allora Quindi sono i templari che l'hanno salvata Ok Ha senso Caro signor Cormac Mi scuso per la brevità di questa missiva Ma è ora di essere onesti l'uno con l'altro Ma che sono parole quelle Avete dimostrato la vostra fedeltà E vi siete rivelato utili alla causa dei templari E questo nonostante le vostre origini da assassino Il manoscritto che cercano gli assassini È in mio possesso già da qualche tempo Ma sti catani? L'ho recuperato quando siete stato trovato dai miei uomini Il gran maestro mi ha incaricato di scoprirne il significato Un compito che mi rincresce di non aver completato Lo lascio a voi signor Cormac Non mi fido di nessun altro Ora andrò al forte William Henry Un presidio male organizzato Circondato da nativi ostili e militari francesi Abbiamo chiesto rinforzi Ma dubito che arriveranno a breve Non mi illudo che la resistenza abbia successo Affido la mia vita all'esercito inglese E la mia anima al padre della comprensione In fede colonnello George Monroe Ma non era breve questa missiva Cioè ha parlato per 12 anni E ora possiamo metterci il vestito finale Sì Cacciatore di assassini amico mio Ora ci sta È swag Super templare Sfucking go ragazzi Ci piace ci piace Ci piace e ci Conturba la minchia Capitano al timore Alle timore Do cazzo dove andiamo? Forza andiamo Il colonnello è nei guai Che significa Nei guai È al forte William Henry E non ha alcuna speranza di farcela Datevi una mossa Pelandroni Eh ma Ah non disponibile Palli Ok un anno dopo Un anno Mi hai proprio cambiato la vita E il meglio Credo che mi perdonerai se stavo Festeggiando senza di te Già un anno Ghist Volevo chiederti una cosa Da quanto tempo sai Diciamo Da dove provengo? Ah È che pensavo che fossi scappato Da un circo di acrobati Omicidi Perché non mi hai detto niente? Beh Il colonnello Ci aveva chiesto Di evitare l'argomento Per non influenzare Le tue decisioni Ma a che punto Ho iniziato ieri Ho 5 euro E sarò al capitolo 2 Porca broia Hai aiutato innumerevoli persone Se fosse dipeso da me Ti avrai nominato Ufficialmente templare Già mesi fa E da chi dipende? Monroe ha parlato Di un gran maestro Sì Il gran maestro Di rito coloniale Credo che ti piacerebbe Shay Suo padre Era un assassino Wow Chissà che storia interessante Ah Ethan Kenway Sta a parlare di lui Notizie dal forte William Henry Il presidio è circondato O lui O un altro dici Il generale Montcalm Si fa strada Nelle colonie Per conto di re Luigi Ma per me nel voglio Allora è d'atto Se solo fosse rimasto A casa con la sua amante La sua o quella del re Una a caso Ma forse è meglio Quella del re È vero Si dice che la signora Omarfi Sia molto affascinante Una Omarfi Nel letto del re di Francia Non ci credo Mi prendi per il culo Fine del dialogo Non ci credo Mi prendi per il culo Morto Ma quanto cazzo Sono vicino Ma posso usarlo Ok Dovevo solo sentire il dialogo Ma dimmene se è normale River Valley Però sulla mappa del mondo Non c'è Sto vestito è troppo figo Mi sta incazzata Forse posso anche Usare il potere Del teletrasporno Perché così Arrivo prima E senza fare Il muri Ma non mi frega un cazzo Della banda qui Che palle Che si è da Capitano al timore Aprite le vele Capitano vele Aprite tutte le vele Tutte? Tutte Tutte le vele Amico mio E let's go La nave così Cazza la randa Ma io sto Dando cazzate Da tutte le parti Però non Non si randa Nessuna cosa Sarà una roba Da Da persone un po' così Sarà una va Sbrago? Ma ma loro evitate Di prendermi Dunque assurdo Io credo Devo stare Più avanti In realtà Stavo al primo Capitolo Il secondo Cazzo Le meraviglie Per favore Ena Affanare Che Sono felice Di rivederti Jack Il colonnello Morro si è arreso Il generale Moncalma I francesi Insieme agli Abbenaki Hanno preso Fort Terry Johnson avrebbe dovuto Portare dei rinforzi Qui Non vedo Non vedo Nessun altro Gli Abbenaki Sono nervosi Non capiscono I termini Della resa E non obbediscono A Moncalma Il colonnello E i suoi Sono stati liberati Finiranno In una trappola Restate qui Nel caso Arrivi Johnson E io Proteggerò Il colonnello Grazie Forse Riuscirò A saldare Il mio debito Con lui Quindi Lavori Per i templari Oppure no Cioè Spero di essere In tempo Ma si Ti pare che non sei In tempo Su A far bravo Ma questo viene Da Matrix No Il vestito Credo sia un DLC L'amico Sopra Termo Non era assassino Boh Sì Però non sono Più amici Mi sembra Ma Mardia I nostri nemici Ma è il lavoro Ma Quella era l'ultima nave Signor Cormac Forza signore Non c'è tempo Portiamo gli uomini Rimasti alla Morrigan Un'offerta gradita Capitano Seguitemi C'è una via sicura Ok Se posso farvi una domanda Cos'è accaduto Al forte Pessima organizzazione Pessima organizzazione Ancora meno fortuna Moncalme È riuscita a bombardarci Per giorni Mangiarane Dire il vero Ha agito con grande onore Ci ha fatto un'offerta Molto più generosa Di quella che ci saremmo aspettati Abbiamo tenuto le armi E soprattutto I nostri coloni Vi ha solo spinto in trappola Non vi aspetto certo Che i francesi ci difendano Voi sì? No Io no Continuate a mostrare lealtà ai Borslani Avete rischiato la vita per me Non siamo ancora fuori pericolo con me Per la lealtà Beh Ve lo devo Voi Vi avete salvato Ora una seconda possibilità È un anno che lavoriamo insieme E in questo periodo vi siete reso utile in ultimo O di qualsiasi delito Voi pensiate di avere nei miei confronti ormai a estinto Credete? Forse sì Forse sì Siamo proprio Ci vogliamo tanto bene Sei vivo? All'attacco! Al riparo! State uniti uomini E farò fuori il più possibile Ma che fu lì? C'è prima mamma me nate Poi penso Oh è l'atto! Amico delle guardie Fai lavoro con le guardie ormai È cambiato tutto Bene colonnello Fate proseguire i vostri uomini Io andrò avanti e vi segnalerò in periodo La strategia astuta Molto bene Siderò i miei uomini lentamente Perché non sali? Ma perché non zucchero? Il cappio al collo Stringe tanti suoi Wow È un albero questo Ora sì che vedo altri alberi E piove ogni cosa Perché non riesco Il cappio è troppo alto Ah non è morto Ma non ci arriva E che merda Cioè Modo faccia tutto Grande detta Sempre questi cazzo De ride Cioè Cioè In pisello gigantesco Lo dico io Qua come ammazzo quello? Grosso raid Grosso Come il mio pisellino Oh shit Ogni ride degradito Mi era degradito Detta un po' Guarda Non come se Meccanica di minchia Non sale mai su un cazzo di muro Ok Era fallo quello No, no, ma che fallo, era regolarissimo Che Segowase? Lo conoscete, signor Corno? Sì, colonnello È uno degli uomini di Achille Un assassino Come lo ero io Allora sanno che sono un templo E ora lui sa che siete vivi E che lavoro con i templari Non sono uno storto Gli assassini mi daranno la caccia ora Sono entrambi bersagli Il doppiatore comunque fa cagare Non so che gli ha preso quel giorno Ma non ce l'ha voglia Sapete che è una trappola, vero? Sapete che è una trappola, vero? Ma non abbiamo scelto Siamo sopravvissuti al francese Lo faremo anche adesso È una trappola, io lo dico Cioè, dovete stare tanto 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 Non è proprio pietre per merda 200 milioni di budget all'anno E poi schifo il cazzo Va bene Non, 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 non Fia Ma dai, ma come il raid Morro è morto Eh, ma io stavo Ammazzare il tizio Se fa così Della nave Via Via Ah, ma quindi devo correre? Ah, ma se saliva d'acqua Oh, ma ti giuro È un fastidio Incommensurabile I have him in my sight Fleeing I have clear I can get Forza, seguitevi Ma le coglioni Seguitemi Ma pure le cose a tempo Ovvio le cose a tempo Se no, non è un action Spiegare le vele Sentito il capitano Filiamo via di qui Giù Avanti Un uomo super addestrato Non riesce manco A sparare Io ne faccio Anche io, colonnello Dobbiamo parlare Ma il dovere mi chiama Signore Vi accompagno allo spaccio Di Johnson A una quaga Ti sono imbarazzati Sì, ma c'è che falliscono Sì Ci vediamo là Sì Oh, comunque Shago Sto fazzoletto Scopa tantissimo Spiegate le vele Praticamente le vele Oh, oh Che ridere Cazzo Non ho un luogo Più vicino per andarci Dove fare un giro Per forza Che palle Ottimo lavoro Barca Missione Barca Missione A volte la missione E anche prendere la barca Che è comunque meglio del 4 Che le missioni erano sulle barche Cioè veramente Questo rispetto al 4 È 30 volte meglio Non sono in combattimento Potresti accelerare E basta Spari sulla barca Missione La barca Poi c'è anche una barca Stai attento Perché è la barca Non te fa venivoglia Dei mori per niente Gameplay sulle barche Perché poi si guida pure bene Sta barca di merda Eh, mica è una rottura di coglioni Capito Aspettiamo l'ordine Aspettiamo l'ordine Non mi frega un cazzo Secondo l'ordine Che mi mettono nessuna voglia Di essere scoperti No ma poi il bello è Ma se mi avvicino Cioè Lascia Scoprimelo No E invece devo Devo vedere sta cosa Non ha un cazzo di senso Cioè Secondo loro Io dovrei Prende Attraccare E scendere Dalla barca In continuazione Anche se questo Questo in realtà Vorrei farlo Oh tetiani Almeno Così ce l'ho Vicino a questo Se non è Se non è una cosa Capita Ma perché Perché Furtavo sta voce Ok Quindi Ah Brucio qualcosa E la nave Mi viene a prendere Ma vaffanculo Ma io come lo capisco Se c'è scritto solo Ah chiamola No Certo ce l'ho scritto solo Interagisce E c'è una bel buchino E poi per quale motivo Le quarti inglesi Sono ancora nemiche mie Lo devo comprendere Se dice qui Fra se a caso E in marina riesco E io Colonello Beh colonnello La mia vita è un libro Aperto per voi Alcuni dei miei uomini Vi hanno trovato Mezzo annegato Non sapevo Chi foste Ma era chiaro Che cosa eravate Così vi ho affidato Ai Finnegan Avevano un figlio Del nostro ordine Il signor Johnson Era furioso Era un rischio Ma immaginavo Che avreste abbandonato I confratelli Colonnello Il manoscritto Perché ridarlo a me? Perché signor Cormac Io mi fido di voi E con voi E in mani sicure Con rispetto signore Io sono un bersaglio Ben più di voi Signori Casego Wase Vuole attaccare Albani I suoi alleati Minacciano un villaggio Oneida E le truppe francesi Sono già nel nostro territorio Potrei sempre rallentare I francesi E aiutare Lioneida Prepariremo la difesa Ma infatti non credo Perché se sono voluti Spostare in America Che fino al 1900 Non c'hanno un cazzo Di nulla di bello Se vogliamo sconfiggere Che sego Wase E i suoi alleati Dovrò aiutare Lioneida E vedere che fare Con i francesi Un villaggio O Neymar Sono asservato polvere e munizioni Sia benedetto Capitano Non per ficcare il naso Ma per caso sai se Che sego Wase Ha qualche punto debole No nessuno Era una sentinella E un mercenario Prima di diventare un assassino Beh che la fortuna ti assista Io me la creo La fortuna Vabbè quanto scopi Il colonnello Ha un certo controllo Sull'esercito Almeno su parte di esso Ma abbiamo bisogno Sia dei soldati Che dei loro alleati nativi Se vogliamo organizzare Una difesa efficace Con lo che sego Wase Sego Wase ha alleati In ogni tribù Che sta dalla parte dei francesi Oltre a sentinelle E cacciatori Avremo bisogno Di tutto l'aiuto Che riusciamo a trovare E' un momento Un barche Sì Barche E marinai E sempre Non ce lo faccio Più Basta con le barche Vi prego Basta con le barche Basta con le barche Non capisco quali sono Queste soldati Invece ci sono morti Avevo possibilità Di riuscirci No Loro sono blu E tocca ammazzarle Questa si può assumere così Tre asterischi Tre asterischi Aiuto l'inglesi Aiuto l'inglesi Probabile In casa tua qua Che mandi i link Come ti pare Ho una fame Ma come faccio A salvarli Che palle Ok Dovrei esserci riuscito Probabile anche di noi Ma di realtà No niente Devo comunque Ma me l'hai mandato In privato E vediamo sto cazzo Di link Niente Non me l'ha aperto Posso Occasione perduta Ma ho ucciso Un meme Ah cazzola Devo vederlo Abbiamo questo Memas Ah ma Barche 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 Dei avventi Il male E' più il 4 Questo è più tranquillo Dai Questo è molto più tranquillo Veramente Il 4 era Ingestibile Ingestibile Troppe barche Troppe barche E poi c'erano Troppe barche Ma dove cazzo Si attracca Sto posto Di merda Ok Non lo so Però lo sta facendo Ah era lì Dove pensavo io La famosa A retromarcia In barco Capitano 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 Peronieto E peronilostro E let's go E let's go Sali 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 Fammi andare A sbloccare La mappa Però Perché giustamente C'erano Ok, forse posso arrivare lì quando faccio il giro però. Sono quelli che esplodono, ecco perché non capivo. Dai, dai, è morto pure lui, è morto pure lui perché questo merita. Oh mio Dio, devo predarlo, devo predarli. Ah sì, mi servono quelli sui poriferi, porca puttana. La più bella giunta del quattro che hanno messo. Come si entra in quella camera? Guarda come ti perdo. Come ha fatto a cadere dal nulla? Stavo letteralmente seguendo le istruzioni del gioco. Non so come lo ha salvato. Non so come lo ha salvato. Grazie, dico, signor. Signor signor, signor. Incredibile. Il tuo d*** è enorme, è gigantico. Un pulso, un d*** e un pulso. Il mio amico è più forte. Il tuo cuore non si tratta! Aaaaaah! Puoi farire due calci per uccidere un uomo. Secondo la loro teoria. Lo salgo là sopra. Ah, lì. È il momento, piedi. Sì, è il momento, piedi. Sì. Piedi sul cazzo per ogni gusto. Sulle palle poi c'è ancora più gusto. Ok, ora sì che con la mappa ho una marcia in più. Non devono sfuggirci! Sono semplicemente non belle le singolo poi. Venerabile. Mi chiamo Shay Patrick Cormack. Sono... Sono un amico. Sei un vero amico. Hai la gratitudine della mia gente, Shay Patrick Cormack. Finché camminerai su questa terra, qui avrai una casa in mezzo a noi. Grazie. Sono io che ringrazio te, ragazzo. Ti andrebbe di fare una passeggiata con me? Non tanto. Allora faremo lo stesso. Mi chiamo Onata. Tra la mia gente circola una leggenda. Spiega come sia nata la terra sotto di noi e come bene e male si siano diffusi nel mondo. La donna celeste sparse saggezza nella nostra terra. Se segui la sua via, conoscerai la vera storia del nostro popolo. E forse scoprirai persino la ricompensa dentro la caverna. Se sei davvero l'eroe che credo tu sia. Mi onorate. O venerabile. No, sei tu che onori noi, Shay Patrick Cormack. Ok, qua l'armatura. Addio. Spasetto da pisello unico. Perché mi si è aperta la mappa? Non ho capito. Ah, ok. Ah, eh, sì. L'armatura. L'armatura dei nativi, eh. Non mi sembra di vederci il simbolo degli assassini sopra, però. Ok, quindi trovando i totem ecco perché mi è aperta la mappa. Ok. Cosa che non farò perché mi piace più questa qua sinceramente. Cioè, importante e figa questa, ma che cazzo mi frega di un'armatura da nativo americano. che cazzo fa. Oh, non c'è se riesce a entrare qua dentro. Per favore. Per favore. Per favore. 2900. No, no, no. Non voglio. Non voglio. Non voglio. potenziare la nave. Forse non voglio potenziare la nave. Oh, è inutile farlo. Non c'ho materiali. Oh, è inutile farlo. Ho materiali. È incredibile. Un momento con la nave. E col dell'acci. Merca in acqua capitano. Pesate le drizze. Pensate alle drizze? Forse ho capito male Volevate di giucciare le zizze Cicatrici Per la miseria Cos'è successo? Che seco base Allora è troppo tardi No Fort Frederick è vicino Il colonnello può difenderlo Sentito il capitano? Muoviamoci E muoviamoci E muoviamoci Scopano se I nativi americani Datemi velocità Frutto tempo in vista Capitano Frutto tempo in vista Sì Riducete le vele Forza Tieni là al sicuro Mentre sono via Sì capitano Ok 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 . 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 vengono a... ok devo entrare dentro, come faccio? ah la porta è aperta ho capito, ma ci devo arrivare là sopra, cioè ci sono i cannoni bugle capisco qual è l'essere un'imitico quali? no Questa è opera di Kesegobuase, vero? Credo, ma non ho visto quel demonio Cos'era sto scambio di dialogo? Senza senso Kesegobuase, kesegobuase Credi davvero di potermi sconfiggere, traditore? Credi davvero di potermi sconfiggere? Beh, il cazzo non è vero, il cazzo lo posso giurare Ah, voglio che inseguimi Notate, sì Hai imparato bene, traditore Kesegobuase Non doveva finire così Invece sì Sei un nemico E Achille ti farà morire Ciò che fa è sbagliato Ci sei tu per dirlo I Templari cadranno Proprio come te Monroe Lui è già E morto Che puoi dire? Liam Ok Ok Go go Salviamole Ok, ho ucciso Kesegobuase Quindi è probabile Non dovevi farlo mai Che Liam non lo uccide in questo momento Perché due di seguito mi sembra strano Dovranno allungare il brodo per l'altro capitolo almeno La città attaccata E quel tizio ha detto È così pacifico qui Nessun Sin criminale Nessun buchino Il colonnello è intrappolato dentro Aiuto Salva il colonnello Colonello Buchino Il manoscritto Un assassino L'ha preso Liam Lo ritroverò Lo giuro C'è 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 Ma come fa Cifra Se lo mette? Se lo mette? No Se lo tiene Se lo tiene Un ricordo Ovviamente Un ricordino Un sbufaccino Un messaggino Pau Un consiglio Un consiglio L'ultimo Mavio Senza Giove De precedenti Sì Però Secondo me Almeno Due Dovresti La cosa è che hanno fatto La Definitive Edition Del primo Che è clamorosa Cioè Lo puoi pure fare Ma secondo me Giocateli Cioè io me li so giochi Tutti e tre di seguito E devo dire Che sono clamorosi Se te li giochi Solo l'ultimo Cioè te può anche piacere Però non so Ti è andato ad apprezzare di più Quando li gioco In modo seguito all'altro Poi magari giochi Il secondo E ti sbocchi l'anima Cioè nel senso Vedete Poi il gameplay marcio In realtà il gameplay del primo È lo stesso del terzo E il gameplay del secondo È molto 2012 Queste scritte Noi giocheremo anche col cazzo Eh però Contestualizzati C'hanno senso Giuri di difendere i principi Del nostro ordine E tutto ciò Per cui lottiamo Lo giuro Ethan Kenway E mai Divulgare i segreti E la vera natura Della nostra opera Lo giuro E di farlo Da ora fino alla morte A ogni costo Lo giuro Allora ti accogliamo Fra di noi Ora sei Un templare Foriero di un mondo nuovo Che il padre Della comprensione Ci guidi Che il padre Della comprensione Ci guidi Io gli Uncharted È tipo il primo Vabbè Però Devi pure contestualizzarli Lo doppio giocente È quello di Ethan Sì ma Non lo so perché I protagonisti Non riescono a farli Doppiati bene Ma è dal primo Che così Anzi Hai capito ora Desmond c'è stava Ora capisco Perché ti interessa Tanto Shay Cormack Shay aveva scoperto Tutta la verità E di conseguenza Ha fatto La sua scelta E potresti trovarti Di fronte Allo stesso dilemma Non pensavo Saresti arrivato fin qui Invece sei sulla via giusta Non abbiamo ancora accesso Ai server di sotto Ma ce n'è un altro Proprio in cima al palazzo Vicino all'ufficio di Melanie Devi andare lì Devi andare lì Perché l'ha fatto Con i pugnetti Sei il server Pieno del piano Del direttore È Let's repristiniamo Vedete gli Uncharted Non li ho giocati Neanche penso Lo farò Perché Il 4 l'ho visto Su Youtube Tutto quanto E i primi 3 C'è una collection Su PC Ma c'è Stato il 4 E DLC E il 2 A caso proprio Contra Melanie LMA Ah è diventato lei Il direttore Vabbè prima Sparito il direttore Questo ufficio Era quello di un certo Olivier Garnot Era il mio predecessore Come direttore creativo Dell'Abstergo Entertainment Ozzo Berg rappresenta La nostra società madre L'Abstergo Industries Lui ti mostrerà La vera storia del mondo Come ha fatto con me Olivier era carino Intelligente E amava il suo lavoro Ma Un anno fa Ha intuito Qual era la verità Nessuno l'ha più visto Di solito Non permettiamo Alla gente Di progredire Alla svelta Ma tu hai lavorato duro Dimostrando di meritarlo Sì ce l'ho duro Ma come lo sai Un accesso di sicurezza Di livello 2 I server su questo piano Sbloccano altri ricordi Di Shea Ma quindi non sono Il campione 17 Sono un altro tizio Ma sta pistola Compenetrata nel Vabbè Famosi i cazzi nostri Ma noi due invece Possiamo fare anal Delusione Niente anal C'è sta eh Noi che mi aspettassi Che fa anal Cerca di non deludermi Come le vie Che vuol dire Deludermi come le vie Coglione Eri Che è deluso lui Perché sei troppo Patatina Non perdere altro tempo Zuccone Vai al prossimo server Ma iscrivimi pure Accesso Mamma mia Videogiochi Ok Almeno non hanno Ritconnato Come cazzo ha fatto Sto adificio Vai Prima vediamo Quest'altro video Slash audio Slash documento Che non fotto una sega Wow Molto difficile Nucleo riparato François Macandale Salvò Baptiste Dalla schiavitù E lo iniziò Alla confraternita Macandale Era un mentore feroce E nel disperato Tentativo Di liberare gli schiavi In Franse Il suo stesso credo Uccidendo Indiscriminatamente Sebbene Non concordi Con loro Alcuni assassini Hanno un onore Macandale Non l'aveva Grazie alla geniale Pianificazione Di Madeleine de Lille I Templari giustiziarono Pubblicamente Macandale Nel 1758 La sua patetica Giustificazione Per la confraternita Non stava in piedi Quando il suo compagno E amico di infanzia Agathe Fuggì in Louisiana Baptiste Capì che la sua vecchia vita Nella confraternita Era inutile Madeleine Vide il potenziale Di Baptiste E diede ordine Ai Templari Di New Orleans Di fare un patto con lui Se fosse riuscito A far uscire Allo scoperto Agathe E ad eliminarlo Avrebbe potuto unirsi All'ordine dei Templari Anche se Baptiste Fu ucciso Dall'assassina Aveline de Grand Prix Il suo percorso Mostra la chiara superiorità Degli ideali Templari Rispetto Al terrorismo Degli assassini Ma questo chi è Ma sarò uno De quelli dei spin off Perché in teoria L'ho giocato Tutti Di seguito In realtà In realtà Non è che sono noiose Devo andare a riparare Tutto Ma che cazzo Non so Schiavo loro O ci stanno i tecnici Entro questo edificio Quella è la mia unica Perplessità Poi Diciamo che Spezzano Nel senso che Ci sta che Spezzano un po' il ritmo Perché a una certa Non gioca solo L'assassino Mi rompe il cazzo E quindi danno Un po' di cose Ci siamo quasi Sappi che il tuo aiuto È per una giusta causa Anche se non sai Ancora di che si tratta Ok Cioè io capisco che Volevano Renderti Così dice Più Immerso Nella storia Lo stesso di prima Schiai è tornato a Notre Dame Prova a completare Il ricordo stavolta Cioè letteralmente Per farti immergere di più Per farti pensare Ah ok ma sono io Il giocatore Non è più Desmond Controllato da me Però Poi non lo so Non le trovo noiose Però non comprendo Ora Schiai è a Parigi E ho anche una data 1776 In quel momento Franklin Era l'ambasciatore americano In Francia Signore e signori Ecco Ozzo Berg Killer professionista E storico dilettante Ok non ha l'anello da templare Quindi può essere Che non è templare Ok Ecco lì Ma che vuol dire Benjamine Benjamine Oh Schiai Sei tu Quanto tempo è passato Oh Ma dove sono le mie maniere Grazie amico mio Grazie Ma Cosa ci fai a Parigi Con tutto il rispetto signore Non c'è tempo di parlare Siete ancora in pericolo Si io Devo tornare dalla mia famiglia Ora Stavire Ma Marche Grazie Che fette, che fette, che fette, che fette! il fatto che segrei così mi dà un fastidio fottuto no vabbè ma questo gioco comunque mi prendo per il culo ma non è possibile ma che vuol dire che ogni 2x3 mi sale e poi mi cade da solo ma guard cosa ma non vedi che sto soffrendo non sape no no Continua a chiamarlo Franklin Ok Ah sì, super sincronizzato, let's go Ok, quindi sta a Parigi vent'anni dopo sta cosa Shay Cormac, sei il nuovo esperto templare di siti dei precursori Non proprio signore, ho solo visto cosa fanno gli assassini in quei maledetti posti Passato anni a seguire le tracce dei precursori Dimmi cosa hai visto Bene, so che sia assassini che templari cercano i frutti dell'Eden Armi potenti, mele che controllano la mente, ma stavolta è diverso Non si tratta di una mela, ma di un albero Sono templi che reggono la terra, come radici Li disturbi e Haiti crolla O... Lisbona O qualsiasi posto indicato dal manoscritto E gli assassini hanno osato interferire con questi luoghi? Già E se non li fermiamo, continueranno a distruggere città Capisco Gli assassini sono attivi vicino alla fortezza di Louisbourg Incontreremo un ufficiale inglese James Cook Ha appena avuto un incarico molto utile dal punto di vista strategico Ghi sta le mappe Molto bene Allora partirò subito Monroe parlava bene di te, Shay Era convinto che avessi potenzialità enormi Spero che non mi deluderai Non lo farò, signore Non si baciano Ci sono un po' rimasti Spero si baciassero Assassini che... E lo? Ah, assassini che non si baciano Che cazzo s'assassina non fa? Ghist Tu sai perché il Gran Maestro è così interessato al Capitano Cook Beh, è molto intelligente e ambizioso La sua abilità nella navigazione non conosce rivali E se la mia cameriera di Halifax preferita dice il vero È appena diventato Capitano di Fregata È anche un esperto nel decifrare codici segreti Un uomo così abile sarà senz'altro utile alla nostra causa Il tipo di persona da accogliere nell'ordine? Beh, è un mio amico Ma ha il brutto vizio di essere onestissimo E non è molto famoso per la sua furizia Non riesce a mantenere le questioni segrete Segrete, soprattutto quando ha il cervello impegnato a decifrare i codici È un alleato Ma occhio a ciò che dici in sua presenza Ho capito Ok, posso usare il cazzo di trasporto che mi rompo i coglioni? L'avrei anche potuto usare Ma non c'ho un cazzo di... Si dice che Louisbourg sia cruciale per la guerra Se la marina inglese conquista il forte Non avrà più ostacoli fino a St. Lawrence Poi verso il Quebec e Montreal L'evento sta cambiando Il generale Wolfe darà una bella lezione a quel file di Montcalm Aspettavo questo momento dall'attacco al forte William Henry Finita questa guerra Potremo finalmente riportare l'ordine nel continente Ho paura che ci vorrà per più di questo Ok Non ho ancora capito Ma il brutto vizio di avere un cazzo genotisca e essere spaventosamente ricco Difetti troppo grevi No, ma infatti deve essere eliminato Dice che è un amico ma in realtà è geloso Anche se sa che l'importante è come si usa e non come lo sia grande Però non ce la fa Purtroppo è così Eccola lì L'HMS Pembroke La nave del Capitano James Cook E andiamo so che è il Cook Io vorrei capire chi era quel tizio nero senza un braccio di prima Perché forse mi sono perso un gioco Sì a bordo signori Lieto di rivedervi Capitano 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 Shay Cormack Capitano James Cook Sono lieto di conoscervi C'è il mio signore Il Capitano Cook ha scoperto uno spiacevole piano che temo confermi le nostre convinzioni Infatti Proprio mentre parliamo una flotta inglese è diretta a Louisbourg I francesi hanno pianificato un attacco preventivo però Se lanciassero questo attacco Ovviamente non permetteremo che accada Signori La battaglia di Louisbourg potrebbe essere il punto di svolta che metterà fine a questo conflitto Io non so voi ma ne ho abbastanza della guerra Capitano Cormack Potrei suggerirvi di prendere il comando? Sono convinto che vi piacerà comandare una nave zeppa di veri cannoni Beh suppongo di sì Capitano Tutto clippato nel timone Videogoghi Nibuboghi Nibudroghi Forse mi sono perso un... Forse è una roba di qualche spin off Seguiamo gli alleati Ice nel timone Sweat sulle mani Oro giallo Wolf, Lawrence e Whitmore guidano le tre divisioni della marina inglese Chi è il comandante? Il maggior generale Amherst Ritornato da Hannover Quindi ti interessa la guerra? Non ho intenzione di deludervi Se parti qui da Ankenway Mi fa una roba comunque Come mi fa troppo rita il fatto che sta a fare un cazzo con le palle sulla mani di mappa però No, era su Ma è il nemico? Oh, ho fame Non dobbiamo lasciarli passare Dobbiamo fermare con noi L'esito della guerra Dicele da questo Fa buon uso dei tuoi mortai, Shay Si riveleranno fondamentali FUOCO 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 Questa nuova è ora qua Cos'è nuova tipo senza braccio Eh FUOCO Eh Non vi è venuto niente Da...da le? Da le un da? Cosa del genere? Ma qual è l'è? Cosa niente? Tipo senza braccio? Adelawe era quello del 4 Dande Chiameremo Fabio Adelawe 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 è la prima volta Adelawe Santo Dio Brulotti Se riuscissero a passare devasterebbero la nostra flotta E allora sarà meglio impedirmelo Riconosco quel vascello signore E l'experto crede Adelawe È proprio fortunato Abbiamo altre priorità adesso Concordo Dobbiamo sbarazzarci di quei brulotti Dobbiamo sbarazzarci di quei brumotti Fuoco Un bel tiro sprecato Fuoco Caricato Scioglietele bene Cazzatele al vento Altri brumotti Altri brumotti Ovviamente deve essere il giorno con più nebbia della storia americana Perché non vedo un cazzo di nulla E sto sperando diventi rosso Fuoco Così Giù a fondo Fuoco È affondato È affondata Vai spiegati Spiegati Ci sono altri brulotti capitano Fuoco Pronti al vuoto capitano Le nebbia di piscio Il fumo Le palle Lo scroto È affondata Stanno affondando Stiamo sulla loro strada Dobbiamo affondare quel brulotto O toglierci di mezzo Fa l'avenita Brode in muo Ci sono altre navi di vite E E altri brulotti Oh quanti cazzi Non ci faremo mai Forse sarebbe più saggio ritirarci Guerra e saggezza non vanno sempre d'accordo Non è ancora finita Gente Tutti ai cannoni Tutti ai cannoni Ma se fatto una navi di merda 28 zotti che Non so di che stai parlando Ma me ne dissocio In caso sia Qualcosa da dissociarsi Di cui dissociarsi Poi per favore Il signor Kenway Ha ragione I mortai sarebbero Molto utili In questa situazione Io faccio quello che voglio Che bene Si è meglio Revarmi dal cazzo Però Ma che si è rigenerata Asta navi Ho capito È affrontata Madonna I mortai soliti Sbagliatissimi Ottima missione Ovviamente hanno capito Che ti devono dare Le navi OP E sbatterte nei coglioni Del resto Cosa succederà adesso Sobre il cazzato Cormac Ecco la marina inglese Perché quello sta così Abbiamo fatto giusto in tempo Capitano Cormac Le sorti della guerra cambiano È stato un gran bel botto Vero? È troppo presto Per festeggiare A De Wale È ancora qui Scommetto che lo rivedremo presto Signor Kenway Scommetto che lo rivedremo presto Signor Kenway Signor Kenway è determinato a sconfiggere A De Wale E tu no? È un uomo molto potente E un simbolo di speranza per gli assassini Eliminandolo Gli infliggeremo un duro colpo È vero Lo so Ma è un vero peccato Lui è un brav'uomo Gist Lo era anche Washington E Sbitt Mi piaceva bere insieme a lui Anche Wardrop Anche se non reggeva l'alcol Lui e Wix Non sono mai andati d'accordo Sai? Se vuoi mettere alla prova La mia coscienza Ci sei riuscito Viviamo in tempi di guerra Shay E per noi Non c'è mai pace Sembravo mio zio Gede Daya Era un vecchio stronzo Voglio raccontarti Un'altra volta Gist Sì signore Pobob È subito cuccato River Valley Tocca andare qua Quindi devo andare La partita qua E fammi tutto il giro Let's fucking go Che dito in culo È tutta assana di sanso Ma è addetta Che faccio a questo Proprio ciò che volevo Capitano al timore Aprite i trevi Aprite i trevi Biscotto Mo' si che se tagliamo Chiudete i gambi E controvela Piegate le vele Cavalchiamo il vento Un bottino galleggiante È tutto per noi E corriamo e corriamo E corriamo con la nave In giro per il mondo Guarda come curva Guarda la nave che quando è in giro Va qui Guarda il vento che mi fa girare Allora let's go Ma pare che devo fare E poi gira a sinistra Perfetto E' top E' top Le navi Le navi Voglio morire Giovani Perché perché Io non voglio Io non vedo un cazzo Attualmente non vedo nulla di nulla Vabbè carino sbregare quella No mi scoccio tantissimo No mi scoccio tantissimo Allora invece di iniziare la missione Andiamo perdendo la lotta Voglio un attimo attraccarmi lì In modo da sbloccarmi questo Perché se non Se il bene non mi inganna Dai veramente non mi ha fatto iniziare la missione E ho perso il jack point allora Qual buon vento vi porta qui Questa bellissima mattinata signori Ancora una volta lo scaltro capitano Cook ci ha servito bene Ho trovato l'uomo che state cercando Ad uguale? Esatto E' stato visto l'ultima volta nel forte francese a due leghe da qui lungo il fiume Che cosa ci fa quel demonio in un forte francese? Ripara la nave suppongo Dopo Louisbourg Molte grazie Ci penseremo noi Arrivederci e vento in poppa Signori miei Il forte è là davanti Bene Sempre dritti allora Oh certamente Sempre i casi dritti amico mio All'estate zitto Che Dio ci aiuti Il diavolo ci fa Ma non ha alcun senso In quei fiumi si può navigare a malapena con un vascello È quasi impossibile manovrare quella nave La manovrabilità è il problema minore Beh, non volevo fare la lista dei problemi Stiamole alla larga Possiamo cercare di aggirarla Rimaniamo sui fiumi più piccoli Lì non potrà seguirci Non facciamoci vedere Non abbiamo certo bisogno di attirare attenzione Perché portano una nave così nell'entroterra? La guerra sta per finire Iniziano a essere disperati Farebbero qualsiasi cosa per una maggiore potenza di fuoco Senza offesa per il capitano Cook Ma quella francesina ha una potenza di fuoco che non ho mai visto Preferisco le inglesine Ah, ma le ragazze francesi hanno un certo fascino Ti ho mai raccontato che la signora Renetta Non è una cosa come, ma... Giusto, non è il momento Comunque conosco un posto sicuro in cui scegliere Andiamo! Qual è il piano? Combattiamo il forte? Non possiamo semplicemente assaltarlo così Giusto Dobbiamo sapere chi abbiamo contro Devo scoprire che ci fa lì ad uguale Questo posso pensarci io Vieni la Morrigan vicina, chiesto? Sì Rimarrà nelle vicinanze E sarà al sicuro Buona fortuna, Shay Non credo alla fortuna Signor Kenway Signor Kenway Ma vediamo se baciano E ora come cazzo faccio? Non ci ho pensato Cazzo per favore Non apprezzo che urli Le persone che urlano mi danno fastidio Ma cazzo da andare No, ok Posso salire qua E voilà Uscisse Faccio la kill La faccia da kill Sono simpatico No Sto orzo de merda Mi ha fatto cacca sotto Pelle di orzo nero Che ovviamente Che senza mappa Davvero non vedo un cazzo Quindi può essere Non riesco a capire dove si sale Probabilmente neanche si sale da qui Ok, devo salire qua sopra Tu sta senza mappa Vabbè Shay Però neanche a vomitarti addosso Non riesco a capire No Guarda la prima cosa che faccio Schifoso No Che mi ha visto Perfetto Di morti Tu n'échapperas pas a ton sort Perfetto Perfetto I templari hanno squinzagliato il cane Vediamo se hai coraggio No, io sta cosa non l'accetto Mi sono rotti i coglioni Porco di ore Questi che Caricano come se fossi Il più grande stronzo del mondo Capitano che mi sta scappando Perché non resta qui E non mi affronta Adewale ti affronta Con le sue regole Dove preferisce Ma è sulla sua nave Ma è più a suo ato Attenzione ai mortai Rischiamo di tornare Tutti qua Il fiume inizia a dispringersi Il fiume inizia a dispringersi Niente paura signore Lei ci ha tirato fuori Le situazioni maggiori Il lago più avanti È un piccolo centro Ma le male Non potrà andarsi E non l'ho preso Un bel tiro sprecato non capito ma sto stronzo ma ci rendiamo conto che il fumo non fa vedere un cazzo quanto bene il vascello non può più seguirci pronti a... fuoco fuoco usano i mortali fuoco fuoco che succede? l'ho preso? adeguale si è arenato una tattica insolita sta salvando il suo equipaggio no si prepara all'ultima difesa non deludiamolo inseguilo shay io cercherò di aggirarlo Ville Carrière uccidere nessuno tranne a De Walee guarda qui ma ma che fastidio perchè mi devono poter prendere sei veloce ma non molto furbo fissile di merda ti fa coladro arriva De Walee baciamaci sei venuto per baciarmi in una De Walee e lui scappa seguilo shay io proverò a chiuderlo stop stop stai stai il Sti cazzo di sussurri Sono veramente fastidiosi comunque Sti cazzo di sussurri 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 Assasist Chain-Rogg Per quello Ci avevo pensato Stai uscito Riccardo è pronto La guerra non è ancora finita Ma i francesi hanno perso influenza nelle colonie Ora i Templari possono concentrarsi sugli assassini Hanno ancora molti uomini a New York Vediamo qual è il ruolo di Shane Quindi 759 Un anno dopo? Due anni dopo? Non mi ricordo la scena prima Come procediamo riguardo ai precursori? Raccogliamo navi escorte Ma è difficile senza una destinazione precisa I miei ti aiuteranno Ho abbastanza risorse per una ciurma, Chevalier Ho scoperto come riprodurre l'esperimento del signor Franklin Presto troverai il prossimo sito dei precursori E credi di poterci riuscire? So osservare, Mentore L'apparecchio è quasi pronto Ottimo Tienimi informato Dobbiamo ancora scoprire dove si nasconde Hope Ora comanda molti criminali di New York Devo trovare il Gran Maestro Gran Maestro? De chi? Trovo tutto il gioco l'infame tocca fare Beh, però Sì, no Cioè, la cosa figa degli ultimi due o tre capitoli è che La linea si è sottiglia sempre di più tra chi c'ha ragione e chi non ce l'ha Molto figa come cosa, tra l'altro La linea si è sottiglia sempre di più Oh, ma c'è, ma ti rendi conto? Non sono sui detti, sto coglione Non è possibile Ci vediamo domani e noi e mezza, lo sapete? Non è possibile?